Invito a ritiro contrario. Il 2.500 della Commissione, favorevole, bilancio. 2.8, pagina 22, Cira C. Invito a ritiro contrario. Poi andiamo a pagina 24, il 2.15, centemero. Invito a ritiro contrario. Il 2.501 della Commissione, bilancio. Favorevole. 2.16, Cira C. Ritiro contrario. 2.17, Marzana, pagina 25. Ritiro contrario. 2.18, pagina 25. Ritiro contrario. Poi 2.22, pagina 26. Ritiro contrario. 2.25, pagina 27. Ritiro, favorevole. Poi andiamo a pagina 30, 2.31, Pannarale. Invito a ritiro contrario. Pagina 31, 2.221, Vacca. Invito a ritiro contrario. Pagina 32, numero 2.218, centemero. Invito a ritiro contrario. Poi il 2.33, pagina 32. Invito a ritiro contrario. 2.34, Simonetti. Invito a ritiro contrario. 2.35, Costantino. Invito a ritiro contrario. 2.36, Giancarlo Giordano. Invito a ritiro contrario. Poi andiamo a pagina 34, 2.39, centemero. Invito a ritiro contrario. Poi pagina 36, 2.42, Dallai. Invito a ritiro contrario. Pagina 37, 2.45, Vargi. Invito a ritiro contrario. 2.46, Bruno Bossio. Invito a ritiro contrario. Poi abbiamo il 2.400, della Commissione. Favorevole. 2.51, Malpezzi, pagina 39. 2.51, favorevole. Poi abbiamo il 2.56, Simonetti. 2.56, a pagina 40. Pagina 40, invito a ritiro contrario. Pagina 41, 2.58, Altieri. 2.51, pagina 41. Sì, invito a ritiro contrario. Poi abbiamo il 2.60, pagina 42, centemero. Invito a ritiro contrario. Pagina 43, 2.63, Santerini. Invito a ritiro contrario. Pagina 45, 2.70, Chimienti. 2.70, invito a ritiro contrario. Pagina 46, 2.73, Luigi Gallo. Invito a ritiro contrario. 2.74, Giancarlo Giordano. Invito a ritiro contrario. Poi pagina 48, 2.76, centemero. Invito a ritiro contrario. 2.77, centemero. Invito a ritiro contrario. 2.78, Caparini. Invito a ritiro contrario. 2.80, pagina 49. Lenz. Savorevole. Poi andiamo a pagina 50. 2.84, Luigi Gallo. Invito a ritiro contrario. 2.86, nella pagina 51. Pisano. Invito a ritiro contrario. 2.87, Pisano. Pagina 51, centemero. Invito a ritiro contrario. Pagina 52, 2.89, Pannarale. Invito a ritiro contrario. Pagina 52, 2.90, Luigi Gallo. Invito a ritiro contrario. Pagina 55, 2.99, Luigi Gallo, Simone Valente. Invito a ritiro contrario. Pagina 56, 2.101, Luigi Gallo ed altri. Invito a ritiro contrario. 2.502, della commissione bilancio. Favorevole. 2.102, Luigi Gallo, Marzana ed altri. Invito a ritiro contrario. 2.503, della commissione bilancio. Favorevole. 2.103, Pezzale, a pagina 57. Invito a ritiro contrario. Pagina 58, 206, Luigi Gallo. Invito a ritiro contrario. Pagina 58, 208, Centemero. Invito a ritiro contrario. Pagina 210, nella pagina accanto. Centemero. Invito a ritiro contrario. Pagina 211, Centemero. Invito a ritiro contrario. Pagina 60, 2.12, Altieri. Invito a ritiro contrario. Pagina 62, 213, Gelmini. Invito a ritiro contrario. Pagina 62, 219. Pagina 219, invito a ritiro contrario. Pagina 67, del fascicolo. 236, Centemero. Invito a ritiro contrario. Pagina 68, il 2.504, della commissione bilancio. Favorevole. Pagina 70, il 245, Luigi Gallo. Ritiro contrario. Pagina 72, 2.219, Bruno Bossio. Invito a ritiro contrario. 252, Vacca. Invito a ritiro contrario. Pagina 76, 262, Centemero. Invito a ritiro contrario. Poi abbiamo il 2.505, della commissione bilancio. Favorevole. Pagina 83, è il 267, Pagano. Invito a ritiro contrario. Il 268, chi mienti. Invito a ritiro contrario. Poi andiamo a pagina 84, il 270, Roccella. Invito a ritiro contrario. E il 271, Roccella. Invito a ritiro contrario. Più il 2.506, della commissione bilancio. Favorevole. Nella pagina accanto. 274, Vacca. Invito a ritiro contrario. Gli identici, 275 e 276. Pannarale e Simonetti. Invito a ritiro contrario. 279, Centemero, Palmieri. Pagina 86. Pagina 86. Scusi, 86. In fondo alla pagina 86. Sì, sì, invito a ritiro contrario. Pagina 87. Invito a ritiro contrario. Pagina 87, 282. Sì, invito a ritiro contrario. Sì. Io prima le ho chiamato il 281, non glielo ho detto. Sì. Ah, è ritirato? Ah, va bene. Quindi il 281, Boss, è ritirato. Quindi sul 282 mi ha detto che è invito a ritiro contrario. Sì. Pagina 88, il 283. Invito a ritiro contrario. Pagina 89, 287. Invito a ritiro contrario. Pagina 91, il 293. È ritirato. Sì. Quindi andiamo al 294, Vizzali. Invito a ritiro contrario. Pagina 92, 296 e 297, Vizzali e Coccia. Invito a ritiro contrario. Poi andiamo a pagina 94, dove c'è il 2, 204, Altieri ed altri. Invito a ritiro o contrario. Pagina 92, poi sempre nella stessa pagina il 2, 206, Vizzali, Molea, Capua. Invito a ritiro contrario. 2, 207, Marzana. Invito a ritiro contrario. 2, 208, Simone Valente ed altri. Invito a ritiro contrario. 2, 209, Toninelli. Invito a ritiro o contrario. Poi 2, 212, Ghizzoni ed altri. Favorevole. Poi abbiamo il 2, 507 della Commissione Bilancio. Favorevole. Poi sempre a pagina 97, il 2, 213, Lenzi. Favorevole. Il 2, 214, Centemero. Invito a ritiro o contrario. Il 2, 216, Coccia, pagina 98. Invito a ritiro o contrario. Bene, grazie. Il Governo. Conforme. Conforme. Adesso la relatrice Pannarale. Ricominciamo dal 2, punto. Per cosa chiede di intervenire il collega Iannuzzi? Presidente, mi scusi, il 2, 144, pagina 69, non è stato chiamato, mi pare. Io l'avevo segnalato. Non è segnalato. È l'unico che posso segnalare, l'ho segnalato io, tramite Camera Doc. Verifichiamo un attimo, collega. Grazie. Stiamo parlando del 2, 144, pagina 69 del fascicolo. Intanto andiamo avanti, collega, poi adesso le facciamo sapere. Allora, collega Pannarale, 2, 5, Marzana, pagina 21 del fascicolo. Mi rimetto all'aula. 2,7, Vezzali. Contrario. 2,500 della Commissione.